E' stata Miss Bahia, che fa parte del Brasile, insieme a me è una delle transessuali che fa il spettacolo a Cernova. Ha fatto ultimamente un'intervista sul secolo e secondo me è la regina del playback. E ho l'onore di avere una delle più grandi amiche, Adriel Perón. I don't need you to love me I don't need you to love I've got, I've got I've got my sister I can't feel her now She may not be here But she's still mine And I know That she's still I've got my house I've got my house But still keep the core down I've got my chest And my body can hold down I've got my hands doing good like they supposed to Showing my heart to the folks that I'm close to And I've got my hands doing good like they supposed to love me And I know more about how things really are now And I know more about how things really are now And I know more about how things really are now I'm gonna love you I'm gonna love you Sì 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 Tiennesee West Day 10 Land In all the love, the love you need, I will stand as tall as the tall and the tree. Yeah, I'm thankful for the same that I'm leaving, those are easy and I won't, I'm leaving. Yeah, but most of all, I'm thankful for loving who I really am, you're beautiful, yes. I'm beautiful, and I'm here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. So, I'm a great professional. So that it's difficult to have you. And for me, you're always doing everything. I thank you very much. Thank you very much. Thank you so much for joining us. per ringraziare, essenzialmente sto chiamando delle trattissuali per me che sono vicine. La prima che voglio chiamare è la mia figlia Eva Ligianetto. Eva! Eva! Eva Ligianetto, un bel applauso! Vieni, vieni, vieni con me. Allora, ti ringrazio di essere sempre con me, di essere una delle migliori amministrazioni, sono molto confidente, ti stavi sempre vicino, ti voglio pieni da morire, a volte non te lo dimostro, ma te lo voglio dimostrare oggi, grazie a te vado avanti, faccio le mie pause, ti mi dai sempre molto coraggio, grazie. Grazie, 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 grazie. Adatto, voglio chiamare sul palco Agatha Ima Abutinfa, Jacques Alibaba. Buongiorno, grazie, grazie, grazie. Allora, grazie mille Agatha di essere qua e ti ringrazio per tutto. E sempre, non lo so, da dove arrivi dalla passaraia? Appena finito. Brava, bene, un bacio. Sono solidarietà, bene. Adesso voglio chiamare una persona importante. Io quando ho cominciato ho fatto molti vestiti con questa persona, ha disegnato i miei vestiti, la maggior parte li ho vestiti per i miei sui diversi trans, per i miei spettacoli. Brenda Pondelli. Brenda Pondelli. Allora, Brenda, ci conosciamo da anni, grazie di essere qua e va. Pronti, mi sentite? Sono un pericolo come troppo dopo l'ossi agonismo di questo. Allora, l'amicizia è una cosa profonda. Chi sa preservare, contenere l'amicizia, lottando contro problemi e non problemi, e evitando i denti taci, l'amicizia continua per anni, anni, anni e anni. Grazie. Voglio sul palco Sara Demi, per cortesia. Voglio anche sul palco la Tiffany, The Body. Allora, Tiffany, dove è? Divene l'alba. No, Tiffany. Tiffany, Sara Demi, Sara, eccola qua. E Tiffany. Allora, ti ringrazio Sara. Allora, Sara è stata una delle prime trans a lavorare in Liguria, insieme a me e ti ringrazio di essere qua venuta perché non è facile l'averti fa. Basta. Grazie a te Naomi, grande, lei, grande. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ma tu che arrivi dalla Svizzera, ti ringrazio tantissimo e ti voglio bene. Grazie. 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 Grazie a tutti.